Trasformare i rifiuti in denaro si può, ma non si dovrebbe, soprattutto se il mezzo utilizzato è illecito. Si arriva così all'operazione Easy Money, coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti ed eseguita dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno e dai Carabinieri di Chieti. 13 arresti, quasi 12 milioni di euro sequestrati insieme a due società. Si tratta di rifiuti che, presi in nero, non figuravano. Non potendo figurare, generavano un ricavo che non doveva figurare, doveva essere giustificato. Vendo metalli che acquisto e faccio del denaro, ma nel momento in cui poi faccio delle fatture importanti per milioni di euro devo a un controllo giustificare l'acquisto di questo ferro. Siccome questi rifiuti ferrosi non erano acquistati lecitamente, ecco l'idea di creare una serie di cartiere che con fatture false e con un flusso falso, vero di denaro, destinato a pagare le fatture false ma poi a tornare indietro alle due società, si conestava, si giustificava nell'apparenza l'attività illecita. E questa è proprio la classica attività di riciclaggio e di autoriciclaggio. Riciclaggio perché il denaro veniva innanzitutto pulito, drenato da quelle persone che a capo di società fittisse si prestavano a fare questo tipo di lavoro. E autoriciclaggio perché poi questi denari erano riempiegati illecitamente nell'attività imprenditoriale da parte delle due società, di Giulianova e di Montecchio di Emilia. Chieti come c'entra in tutto questo? Chieti c'entra perché a Chieti era praticamente la mano d'opera, permettetemi di chiamarla così, di questa società fantasma, il centro nevralgico, che praticamente provvedeva al riciclaggio del denaro e alle fatture false. Non solo, metteva a disposizione anche il servizio materiale di trasporto del denaro contante che veniva reperito presso gli uffici postali e drenato dai conti correnti delle società cartiere, servizio di recapito alle società di Montecchio e alle società di Giulianova. Queste persone praticamente facevano un sacco di chilometri. Abbiamo potuto sentire uno che si paragonava quasi a un commesso viaggiatore. In quattro mesi aveva percorso 38 mila chilometri per andare a prendere il denaro ai vari uffici postali. A riprova di questo sforzo di cercare di recuperare milioni di euro presso uffici postali, conti correnti, con prelievi tutti quanti al limite di mille euro.